Calciomercato Milan Robben e Ganso a giugno La dirigenza rossonera ha deciso di fare le cose in grande per il prossimo Milan di Allegri Versione 2.0 Galliani e Braida infatti stanno lavorando intensamente sul mercato estivo per rendere invincibile il Milan per la prossima stagigione Il primo colpo è stato Max S a parametro 0 dalla Roma così da mettere la difesa al sicuro successivamente è stato Taiyu oggetto della dirigenza rossonera e di cui si attende solo il passaporto comunitario ganso e il genio e talento che alla fine arriverà in maglia rossonera anche se la trattativa prenderà tutta l'estate essendo difficile e complessa ma alla fine si farà Oggi spunta un nuovo nome un grande campione nel mirino del duo Galliani Braida Argena Ruben l'olandese ha rotto definitivamente con la dirigenza del Bayern dopo l'esonero di Van Gaal l'ex tecnico dei bavaresi e connazionale del giocatore inoltre a supportare il malcontento di Robben ci sarebbe la stagione da incubo vissuta dal Bayern e le incertezze sul futuro della società che al momento non ha assicurato al giocatore una rosa competitiva